Adesso il nostro scopo è attivare le difese per proteggere la nave Arca. È pieno di easter egg questo gioco, è una cosa bellissima, molti dei quali comunque non ho scoperto. E forse questo non è un easter egg. No, questo non è un easter egg, però... però... No, però è una banana, questo è dove sono venuto. Ma che cretino che sono. Può passare per di qua. Comunque sì, ripeto, ci sono moltissime aree del gioco con passaggi segreti. Perché lui è fermo qui? Vabbè sì, l'altra strada è quella che noi stiamo seguendo. Arcillary online. Tecnicamente noi ci troviamo nelle rovine di Ayakon. Nella parte più interna, però. Ayakon era la capitale degli Autobot. Ok. Mamma mia, i brividi Non posso te dacolare Mi ricordo che il mondo è un video per questi canoni Non ne abbiamo fatto l'arca C'è quello che c'è per l'Arc. Dobbiamo trovare un modo di lanciare l'Arc quando questo è finito. Un bel problema. No, cosa vuoi dire? La stanza si muove. Mi sono un picco inergetto, ma credo non potrebbe riguardare niente. No, guardate, io sono con la pelle d'oca, è sbalorditivo. Questo gioco, nonostante l'abbia finito, ne sono ancora innamorato. Allora... Una porta si chiude, se ne apre un'altra. La schematica mostra un pannello accesso vicino. Sì, dovresti riuscire... La ferra. Ecco perché odio quando non è doppiato. Perché i sottotitoli scorrono velocemente. Ed è alquanto fastidioso, Dio mio quanto è forte Optimus Prime. Quanto è forte Optimus Prime. E' un po' di rinforzamento. E' un po' di rinforzi! 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 Li hanno giustiziati? Un po' di rinforzi! E' un po' di rinforzi! E' un po'! C'è... Non aspettare di pietà, Autobot! Neanche tu! Non aspettarti pietà a un po' tu! Ahiai danni! Mannaggiai danni! Mamma mia, io devo stare attento! Fanno malissimo, cavolo! Faccio troppo lo sbruffone e rischio di farmi ammazzare. Quella non so cosa sia. Però dovrebbe esserci un fusibile da qualche parte per recuperare. Di qua non mi sembra ci sia nulla, quindi mi recco nella parte alta. Allora... Nooo... Optimus! C'è qualcosa? Non potrei salvare loro. Ricordate l'Arc. Se non lo proteggiamo, non c'è futuro per nessuno. C'è... Decapitate e lasciate qui a morire a cremo di trofeo. Cioè, magari... Non colpisce a tutti quanti. Però... Se... Se... Riuscite un minimo a immedesimarvi. E a vedere... Queste scene nei panni come se fossero magari esseri umani. Cioè... Questo è Energon Oscuro per la cronaca. Cioè, le... Le scene sono molto cruenti e violente. Che... È una violenza che passa un po' inosservata, visto che... Perceptor. I can see the arc just ahead. Thank the Matrix, it's still standing. Be careful approaching the Neutron gun controls, Optimus. Decepticon troops have overrun the area. Roger that. Still have control over the city's artillery. A strike should help clear the way. Orchid! Ormai! Megatron! We have established a perimeter around the Neutron... What was that noise? Uh... I don't know, sir. We'll... Optimus tried! Destroy him! Not today. Impressive, Optimus. Save the praise for when we get out of this. We fight for our freedom! Come back here, you! Unfortunate but necessary. Have you taken a sharp pose at him recently? Optimus! I'm reading more Decepticons than the other walkways! You've got to get a better shot! Into me! Auto-bomb, you're doing it! 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 Ok... This time I'm going to get more violence and more speed. Alibut! 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 Is your tactical ship underclocked or are you normally this? I'm going to beat you down with your own conversion, Kirk! I'm going to get lost! Man, you've got to get lost now! I'm going to get lost! ¿YOUUAAAH! You're going to get lost now! Oh my God! Optimus! A DENSEPTICON DROPSHIP IS IN BOUND! La nave Decepticon in arrivo dai. Ok dai dai, forse ce la facciamo. Ci sto provando Perceptor. A trovarla, non so dove cavolo sia. Ok. Ok. C'è questo colpo potenziato è fantastico. Ah ecco dove doveva andare. Morto? Ok. Comando, non ai neutroni. O ai neutrini. Quello che è. E non ai neutrini si sta attivando. Mamma mia. La pelle d'oca. Che bestia. Ah. Il sistema di targetamento non risponde, Optimus. Tu dovrai farlo in manualmente. Sto uplaggio le coordinazioni per un panel accesso. C'è guardate che bello lo scenario. Gli sfondi. Cioè sono fantastici. La visuale è spettacolare. Certo è l'arca che viene distrutta, io sto prendendo tempo a mirare il paesaggio. Questo non è molto in linea con le priorità di Optimus. Però è troppo spettacolare come gioco. Meraviglioso. Non c'è niente da fare. Mortiglieria offline. Optimus! Questo è Ironhide! Il mio team e noi siamo bloccati dalla stazione Art's fueling. Patience Ironhide. Questi sistemi hanno stato offline da tizioni di... Non bisogna dei dettagli. Diciamo come rilasciarlo. Ironhide è il preceptor. Non abbiamo tanto tempo. Sì, sì, continui a lavorare, Optimus. Tu dovresti vedere il manuale lì vicino. Qua non c'è niente, vero? Non vorrei rilasciare... Boh, sembra di no. Forse. Quei minuti. Grande賞izione. Sud �imitare per la posizione. Oh! Sì, non è vero All right, I've got your range I don't have the firepower to stop those tanks and you're lucky I do I'm scanning more tanks rolling in not for long don't let them all Okay Oh Enemy drop shot Ah Dov'essono il? Oh, e' quello qua No, il secondo, il penultimo Mamma mia, quanto sono due Incredibile Oh, i cagli Ok Il cannone è cosa? You're out of energy on Optimus And we need to find more Perceptor, I'm heading back to you Da dove si scende? Cavolo succede La porta si è chiusa, ma ho fatto anche un co... cos'è cavolo? Ah, dove devo andare? Ah, ok Ah, ma si è attivato uno scudo protettivo Dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Chiunque tu sia, percepisco la tua presenza nella matrice Un antico... ti chiedo... ti chiedo... no, io ti ordino... aiutaci nel momento del bisogno... Mamma mia, momento epico... A presto... mi piace... Gli Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Arc è about to come apart! Then let's roll out! E' spettacolare tutto questo. Beh, da Red è tutto, anche da Cybertron. Ci vediamo alla prossima.